Vorrei pensare di sottolineare, soprattutto, il carattere di scrittura ma anche lingua di Coenè che è rappresentato, insomma, il carattere di Coenè che rappresenta, che rappresenta quando l'allocco, perché a livello di, diciamo, vedremo questa serie con una serie di fenomeni di progetti che la rendono una lingua trattive e anche abbastanza particolare, perché ci sono, innanzitutto è l'unica, che dovremmo rifare quando andiamo avanti, è l'unica che viene decolata da ben tre sistemi grafici diversi, nonostante però i due principali siano almeno due. Quindi ero partita con una cosa di frenetta, proprio per, che mi sembrava, insomma, riassumere il problema di mani attuali ci troviamo, cioè appunto quello della complessità di cambi che può esibire, soprattutto della ricostruzione, della distruzione di questi elementi di interferenza, di questi cambi che ci sono stati in passato, proprio perché, soprattutto da dove ci sono state diverse componenti etniche, in qualche punto quella della realtà centro-medionale, in cui tra l'altro siamo comunque già da antico, con molti elementi di continuità culturale, insomma, rendono effettivamente molto difficile lasciare la linea netta di demarcazione tra ciò che è effettivamente poco, visto che comunque è una definizione che nasce a Sperioni, per certi resti, e cosa invece fosse precedente. Solo che appunto noi riusciamo a percepire questo fenomeno di intersezione tra più culture, proprio da dove iniziano ad esserci delle anomalie o comunque dei cambiamenti rispetto a quella che è una normale scrittoria. Solo che per capire cosa dobbiamo intendere per occo, è necessariamente necessario fare un passo indietro, cioè capire in che rapporto questa lingua si colloca con il gruppo del fondamento italico, perché c'è un problema di definizione che ha le sue origini, già insomma dai primi studi che c'erano fatti proprio sull'italico nel nostro tempo, e quindi proviamo ad avere due definizioni di italico, una che è appunto quella più larga, insomma più generalizzata, che nasce proprio nell'interno dell'ossuola per cui appunto si dice semplicemente che l'italico è troppo, eh? di carattere di aritale o comunque di variazione che è normale da fratti di comunicazione, e invece l'altra definizione di italico che in realtà andava a focalizzare l'attenzione per una serie di punto, una in questo caso sia devoto che artigiani, quindi ancora italiana, a focalizzare l'attenzione, quella è una cosa che si è portata tra l'altro nella nostra tradizione strutturale, negli elementi di affiditudine che possono esserci tra le nuove umbre, vorremmo dire, o comunque che hanno una forte marcatura umbra, e le nuove, quindi medienali, per cui sono andati insomma tutti a confluire nell'unica dimensione di umbro fabelliche, dove appunto nel lato fabellico si andava a far convendere soprattutto quei elementi, i elementi di umbro meridionali, che se in fatto di essere comunque legati a questo, diciamo, tempo originale, rappresentavano delle affinità con anche la parte umbra. Però, di queste due definizioni hanno, per certi versi, due limiti. La prima, devo dire, perché è troppo generale, la seconda comunque presenta dei limiti, proprio perché non si dice in ogni caso a quale confluenza dovremmo fare riferimento per questa, insomma, ideare un da del gruppo umbro fabellico, e contemporaneamente non rende veniva la ragione del fatto che se noi andiamo ad analizzare nel dettaglio, e che non vorremmo dire, è vero che ci sono dei elementi in comune, ma questo proprio perché è la stessa matrice alla base, però che sono comunque notevoli differenze, anche nello sviluppo monetico, morfologico, che dividono nettamente una lingua dall'altra. E alcuni elementi poi dicono un ulteriore problema sugli elementi di convergenza, ma che dicono, ecco, è da complicare anche con le notizie di carattere storico, archeologico, perché possono esserci di quello due punti di influente dei elementi linguistici. Cioè, o è un'intruenza che risale in alcuni cosa, noi troviamo, per esempio, nonostante diciamo a distribuire l'ombro con delle caratteristiche, l'osco con altre caratteristiche, ci sono degli elementi di convergenza, il problema che può occorre, o queste convergenze risalgono a, diciamo, a un periodo più antico e poi naturalmente, nel momento in cui si sono separati, si sono distanziate mantenendo una certa origine comune, oppure potremmo dire che, essendo c'è effettuato il movimento di gente tra nord e sud, anche perché noi non dobbiamo immaginare come il serrano statico, che già in età preistorica viaggiava l'ossidiano tranquillamente, vorrebbe in linea teorica anche essere possibile che è stato un momento di divisione e scambi e convergenze continui a non vogliere in alto, in un momento in cui si è comunque identificata la lingua del fenomeno di corrente di ritorno. Quindi, insomma, traendo le torne, Italia, quindi la condivido, insomma, questa definizione di Fessi, che appunto è quella, insomma, che rende più o meno bene il problema, prima aveva appunto un'emichetta dell'impatto che ha un valore, appunto, più politico e istituzionale che, in realtà, se, insomma, semplicare tutto per ragioni di studio, quella che in realtà doveva essere nella fatti una varietà linguistica, insomma, più ampia e che, in alcuni casi, ma questo avviene soprattutto per carenza di documentazione, cioè noi siamo stati a ritenere che alcune lingue siano quasi degli aletti rispetto al gruppo principale, non perché forse fossero effettivamente degli aletti, ma proprio perché i documenti in occhio, lo stesso, sono ancora più esempi di quelle delle cosiddette lingue più note. ovviamente. Andando avanti, c'è a questo punto da dire, già, insomma, l'ho anticipato, che le cose più strane o comunque maggiori movimenti si iniziano a vedere, e poi ci riguarda soprattutto intorno al V secolo. Qualche accenno c'è già tra il VI e il V. quindi, per il certo punto, abbiamo, insomma, una serie di, probabilmente, anche fenomeni di spostamento e di popolazione, che sono testimoniali anche dalle fonti astrologiche, soprattutto per quel che riguarda un'area particolare, in questo caso, della campagna, cioè un'area che si va, diciamo, a sintetizzare un po' nel Norano, l'area, insomma, di frate o di sezionale, di non avere allegato alla cappina. Comunque, se qualcuno, un po' frate, nella zona tra Salerno, non socca Napoli, ma tra Salerno, risalendo verso l'interno, quindi anche verso il stressante o meno il sino, e poi, a un certo punto, rileviando verso la costa. Quindi, insomma, un'area concentrale, non tanto distante dalla costa, ma nemmeno tanto distante dall'interno, che non ha nulla a che vedere con la piana carpana, e dove, appunto, probabilmente, o per, diciamo, spostamenti per via interna, cioè via montagna, di cui, dall'altro, archeologicamente abbiamo prove anche, per esempio, per delle tombe di chene, che femminili, che sono presenti all'interno della necropoli di Ponce Cagnano, quindi tolle, in un contesto, e tutto, quindi queste tombe già nel testo, che evidentemente i contatti c'erano. A questo punto, vediamo che, probabilmente, queste persone, che quindi erano iniziate a concluire, verso questa zona, sono presenti e tutti, hanno iniziato, insomma, la fase che ci interessa, cioè la fase più o meno di quattro, in cui tendono a formarsi quest'oppo, che, appunto, è una lingua di voi netta e di gruppo, evidentemente scegliono di utilizzare una lingua, oppure di, insomma, di creare una lingua che riassumasse proprio per volontà di auto-appresentazione e, in modo che però conservasse, tramite l'utilizzo di sistemi grafici diversi, in fondo, una certa tradizione culturale che risaliva a fenomeni precedenti, e quindi, insomma, per l'intento ci sarebbe creato una lingua che andava a rappresentare questa popolazione culta. Però, tramite l'utilizzo di grazie diverse, ogni abitante di una certa area conservava la propria tradizione pur riconoscendosi membro di questa, lingua, diciamo, unità come direttore nazionale allargata, che veniva, poi, ad essere pericolata dalla lingua osca. Quindi, stanno usando i termini più moderni come se avessero anticipato, come è il lingua di cui diciamo a fare, tutte le possibilità in Italia, partendo soprattutto dal gestante centro meridionale. Per quanto riguarda, infatti, il luogo in cui noi troviamo inserciata la lingua osca, è, di fatto, dove abbiamo documentazioni dell'occo, su tutta l'area medionale o centro meridionale, all'esplosione della zona appunto di foggia, quindi, che parte dopo l'area salettina. Per quanto riguarda le caratteristiche linguistiche che presenta dell'occo, è, appunto, ci sono delle caratteristiche che la connotano la lingua italica, insomma, quindi che la connotano per essere una lingua italica, ma vedremo anche delle differenze che, appunto, rendono ragione di quel discorso che facevo inizialmente, il fatto che il numero, è vero che la definizione di un numero cabellico in questo lato, o meno nel nostro contesto, è sbagliata, proprio perché la tonologia è diversa, ci sono delle differenze che coinvolgono nettamente i due e due. Nel nostro abbiamo quindi un sistema cocaico a sette elementi, di cui due sono rappresentati da questi suoni dei Q e U, gli attrinscati, che sicuramente non si sbagliata, o che corrispondono più a un'apertura, a un maggiore o minore grado di apertura, oppure se non siano proprio una differenza di tipo umbrico. Poi, ha la presenza, in quanto sono i detali delle conore, questo è importante, stiamo parlando di lingua europea, ci sono, ma questo è importante, perché visto che l'oppo, in un'area in particolare, utilizzerà l'affabletto e tutto come, diciamo, affabletto principale, affabletto modello, si dovrà relazionare alla mancanza di suoni, appunto, per i temi, per notare le conore. Non ha le aspirate, e anche qui non è in forno, perché in rapporto al modello classico, come tutto, dove invece erano, e presenti. C'è una tendenza all'innovazione analogica, ci sono diverse sincopi, e questo è importante, perché ci dà una serie di elementi. Anzitutto che esisteva, quindi, la sillaba, la sillaba iniziale aveva, quindi, era marcata dalla posizione aspettativa, e quindi determinava la non caduta di suoni seri a questa sillaba, mentre si potevano creare enormi di modifiche nelle sillabe successive che potevano generare o caduta di vocali, soprattutto rispetto nelle sillabe successive a quella iniziale, o addirittura, insomma, un fenomeno posto, aumento di numero di sillaba del navigamento sonorocalico. C'è, appunto, la tendenza alla forma in renex del genitivo, c'è la tendenza alla palatabilizzazione di un posto, fino a portare, appunto, a letto uni. Le vocabili, lumi e le finali, appunto, utilizziscono un oscuramento, quindi appunto si penalizzano. Abbiamo detto, un'altra conferma indiretta dell'accento protosillabico e dell'originale accento protosillabico, dato dal fatto che, qualora si avversano all'unimamento omoralico, avviene solo e sostitivamente nella parte initiale della parola. E questo va a essere interessante perché, appunto, noi in alcuni casi lo riconosciamo proprio per una reducitazione del genio vocalico. E questo, per esempio, è un fenomeno che è comunico all'osco e all'umbro, la tendenza ad assimilare appunto il rucco Nd in Nn, anche qui tende in un ulteriore tendenza alla palatabilizzazione che è l'effetto di questo suono semilocalico, il passaggio, anche qui comune, al nudo del gruppo interno solo, del gruppo interno cl, un cl. E poi, questo, però, è una differenza con il latino, e le mie domani non potrebbero comunque essere, insomma, contigo a certe aree, ma che, infatti, non di due, è stato il fatto che la conora aspirata europea possa avere edito di esse, significativa, tanto all'inizio di parola, tanto all'interno. Contrariamente a quello che viene di raggiungo, come sappiamo, comunque si connota per a finire, soprattutto in fila da l'iniziale. Poi, insomma, altri stativi che scoprima i ma e i non, anche qui della divisione tre del genere maschile femminile e neutro, anche sul neutro, in alcuni casi, sono più casi che derivano, come sento da altri, da Brattini o altro, che rimangono in forme isolate in qualche contesto particolare, quindi alla prossima, volessi andare a vedere, che è probabile trovare più nulla e martire. Anzi, in sede finale, se, appunto, si tende a ridurre la lunga finale, come il suono finale della luce est, a favore di un suono singolo, ecco qui ho notato, appunto, l'esperienza col lungo, che non avviene la confondazione, mentre avviene frequentemente l'anastici, in modo esattamente speculare, e opposto, in questo caso, quello che è meglio per l'ombro. Quindi, inferiore modo per dire che sono diverse, almeno alla quota cronologica, in cui si forma, sono molto lunghe, completamente diverse. Se, appunto, la perdita del carattere occlusive, scusate, insomma, dinanti all'occlusive che non sono organiche, c'è l'aliate di schiattiva che partiva, quindi non abbiamo, come latino, per esempio, una forma di tronette, e, per quanto riguarda i fenomeni di traspettazione, mi diceva, possiamo immaginare che la lingua fosse parlata anche prima del quarto, visto che, comunque, è un fenomeno di coinet, che è una serie di popolazioni a contatto, quindi qualche forma di comunicazione univoca dovessero crearla probabilmente, però noi possiamo basarci solo sui dati etiografici e quindi quello che ricariamo è che sicuramente la scrittura della roccia è attestata in un periodo che va tra il quarto e il primo avanti Cristo. Questo, per caratteri generali, perché, vi ho detto inizialmente, noi abbiamo seti sistemi grafici, ma questi seti sistemi grafici verranno utilizzati in periodi diversi, o che sono l'edusco, il greco e il latino, faccio dire che gli alfabeti, la lingua che viene veicolare è sempre l'edusco, con il problema di seroniscato, di intersezioni, con l'attitudine e il numerico. Però, in un caso, si può parlare di un alfabeto modello che è l'edusco di base, quindi studiare gli adattamenti che riguardano soprattutto l'integrazione di quei temi che nell'edusco non erano attestati, oppure nell'utilizzo, nella professione, di quei temi che erano, nel caso delle vestigate, che erano presenti nell'edusco ma che non servivano nell'occo. L'altro sistema grafico dell'altro alfabeto di riferimento, in questo caso, diventa la principale rispetto a quell'edusco è quello greco e quindi ci saranno degli adattamenti, in questo caso, completamente diversi e l'ultimo sarà il latino. solo che, potremmo dire che, inizialmente, l'osco si divide in due grandi aree, cioè, nel tempo, quelle in cui viene documentata le due parti grafiche figurate prioritariamente, sono quella patelucca e quella patelera. Infatti, sono quelle che verranno utilizzate rispettivamente dal quarto al primo, però con quella edusca che ha forse qualche attestazione che va anche oltre la guerra sociale, che poi la guerra sociale, di fatto, temi ha quasi la morte definitiva dell'otto, perché, appunto, temi ha fatto l'impossibilità di riconglugersi contro Roma. E quindi, prego, invece, le ultime attestazioni che devono coincidere con la guerra sociale, mentre, per cui ci riguarda il latino, vediamo che ci saranno delle attestazioni che vanno, appunto, dalla metà del secondo, fino, appunto, alla guerra sociale. Questa differenziazione è dovuta al fatto che abbiamo, abbiamo, praticamente, l'utilizzo del latino, non ricalza una realtà culturale precedente, perché io ho detto che l'oppo è una lua di coinette, però si utilizzano i sistemi grafici diversi perché questa, insomma, è come si avessero creato una cosa di televisione, per cui io parlo la stessa lingua, ma nell'area di origine ne mantengo la tradizione precedente, che però si è, nel suo tempo, riunita e, diciamo, ha perso alcuni elementi che furono a distinguere, ma non alcune funzioni per essere etrusche o greche o altro. Mentre l'utilizzo della graficia a base della cuna, di fatto, diventa solo una moda in quei centri o in quelle realtà che vogliono o per intenzioni politiche o di di propaganda, o semplicemente di moda, dimostrarsi più vicini a Roma. Quindi, rispetto all'utilizzo della base rusca della strategia della trattore di logico e organizzato a certe realtà. Cioè, l'alfabeto a parte latina verrà utilizzato per lo più nell'area arcana, per lo più a una, e direttamente, e se non tanto, qualche attestazione in alfabeto latino lo si ritrova anche in prima trent'annina, con i resti di Casacalella, con l'uncia di Capo Passo, perché è un luogo abbastanza contiguo a, comunque, che vede che consente di aggiungere facilmente la polonia latina di Lucera e quindi, insomma, il contatto con la parte latina è notevole. Vediamo ora le particolarità di ogni, diciamo, base grafica, delle tre terapie utilizzate per l'onco, dato che è il dato cronologico, proprio perché è quello, l'alfabeto a base rusca, è quello che dura di più, quello utilizzato nel maggior numero di iscrizioni, e tra l'altro anche le prime attestazioni, perché, io ho detto qui, generalmente, prima metà del quarto è una data ampia, insomma, credo anche, che coincide sia per il greco che per il trucco. Però, se continuiamo a fare un'analisi dei documenti più puntuale, vedremo che, a livello cronologico, i documenti in osco a base rusca preferono di poco quelli realizzati in alfabeto a base greca. E proprio lo stesso motivo, appunto, è detto in coro, ormai dicono, differenze tra i vari sistemi, ci sono anche per l'utilizzo dei segni, per il discorso che facevo precedentemente, per cui abbiamo, nell'alfabeto a base rusca, un totale di 21 segni, così costituono qui, inizialmente, ma va del 19, a cui, e qua si discute, se ne aggiungono due, gli spiego in che senso se ne discute, perché, mi chiede che io li ho recitati, perché, secondo alcuni, la presenza dell'Io e dell'Uria abilitata sarebbe, appunto, un fenomeno successivo per notare, appunto, questi suoni diversi che non erano presenti nel nostro obiettivo rusco. Però, se uno va a disaminare la realtà campana precedente, immediatamente precedente a questa fase, ci sono già delle iscrizioni, in alcuni casi tussche, in altri casi, in altro obiettivo, tra virgolette, l'inferismo, anziché utilizzare, senza entrare nel mezzo. C'è tutta una questione su come definire alcune iscrizioni che non sono né tussche né greche, ma che presentano alcuni caratteri, potremmo dire, di metto grafico, di ripresa, dei suoni, c'è dei simi dal greco, però hanno degli elementi che la connotano per essere una lingua italica, siccome c'è un po' di mercuranza, e in alcune iscrizioni sembrerebbe che almeno un segno simile a quello che è la Ligia abilitata sia già stato impiegato. Sembrerebbe, però questo è da approfondire da un recente ritrovamento, che forse, anche la Ligia abilitata, potesse essere già attestata. Dico che non avete bisogno di approfondire, perché possiamo immaginarci, a livello, in genere, quando si metta nuovi segni, si tende a rispettare una certa simmetria. Allora, se vado un attimo sul sito di un noun, e vi faccio vedere l'elenco dei simboli, e vi faccio vedere l'elenco dei simboli. Allora, scusate un secondo. Allora, bisogni. Allora, bisogni. Grazie. 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 discorso vostro per lei perchè la parte estensionale della campagna era trovata dalla tradizione etrusca alla puntuazione simbattica quindi si poteva trovare in particolare con i testi anche accanto a un aereo 1-1 quindi se avessi utilizzato la 1-1 mi avrebbe dato le ambiglietà sull'estate dei cli quindi un po, etrusco, greco o italico avrebbe capito che quella era una orte non in cli sull'estate invece etrusco se avessi mantenuto una simmetria con il continuo non avrebbe più capito che quella era ad esempio non una risma, un altro cono perchè l'avrebbe letto come un segno, un segno all'interno di una puntuazione simbattica quindi da leggerci secondo la tradizione etrusco non è una questione secondaria perchè cercava un'iscrizione, se lo chiuso dal corrento che ha visto dedicare diversi studiosi e che se intera, se ripresenta, può essere letta o come di più di neis o di più di neis, insomma sono varie letture perchè sempre se dipende da quale sospettiva dimistica io vado a guardare quella serie di disegni questo quindi mi fa già capire che se è appunto questa evidenza di trovare un accordo comunicativo in assurdo e quindi mi dovrebbe a ritenere che la riforma ortografica che viene, quindi questo aveva fatto per certi ragioni la Geronia che si era arrivato per la serie di disegni, non è da collocare al suo accordo terzo avanti terzo ma probabilmente può anche di salire indietro di almeno un centinaio d'anni tra terzo e quinto e solo di noi, se ci attiviamo a leggere quello è tutto, quello è talico, quello è occhio, alcune caratteristiche e non la leggiamo nell'ottica di abitudini all'incontro potremmo forse non riconoscere un'iscrizione che, caso mai, è realizzata in un nuovo età ma sembra avere gli stessi, diciamo, caratteristiche di discrizione pubblica può essere legibile tranquillamente in un nuovo età, se non è che non significa di diretti ma allora, credendo che assolutamente non ci rendiamo conto già di un sistema di temi di questo tipo ritornando alle caratteristiche, abbiamo già detto appunto quali temi non ha e vediamo che quindi i problemi che si poneva l'alfa breto a barra di brusca in racconto a quello con, cioè la poppa su un barra di brusco erano in assoluto di integrare dei temi, di eliminare i temi per le aspilate e vediamo che probabilmente anche per esigenze fonetiche, ma forse anche qui grafici come nel discorso della rinun perché si poteva generare di nuovo una confusione, forse per gli invarii si usa l'inversione rispetto alla sequenza latina del termine o per tra le golette R che viene rappresentato come una strepe di P e viceversa, forse perché dobbiamo calcolare che il successante rusco è in quell'area, la R in alcune aree appunto conservava la forma di I e quindi probabilmente questo ha spiegato il ribaltamento rispetto all'area latina dei foni di I è articulato come una strepe di R e della R è articulata come una strepe di... non so se sono stata chiara. Anche il segno per esempio che per l'occlusiva velare insomma viene modificato e dato che abbiamo detto rispetto all'edrusco l'oppo in quanto lingua italica sia la sorta che la la sonora c'è la necessità di rinutilizzare un segno per distribuire appunto la corda dalla sonora per cui si avrà che più o meno Ia, ma che è portato in questo segno di un dato, verrà a rappresentare appunto la sonora e invece il K che era rimasto in particolare inutilizzato appunto nell'edrusco viene ripreso, anzi non in una fase iniziale, viene ripreso a segnare la corda. Altri passaggi per esempio, anche qui grafici, sono delle modifiche, per esempio del suono di del gel originario di gamma che viene guadagnato con una specie di... appunto di di WC un po' più squadrata, ma questo perché probabilmente si possono essere create altre confusioni con altri segni o semplicemente di cui come in discorso precedente noi non riusciamo ad essere veramente consapevoli e vediamo che per esempio hanno conservato il segno... ah, altra cosa che appunto hanno riprodotto anche qui nel dato del sonore il segno per di WC, che è di nuovo la sostanza dell'edrusco e hanno mantenuto la forma a osso della fricatura, perché appunto il... l'iglento italica aveva questo suono. Per quanto riguarda l'area di diffusione, l'osso della fricatura è diffuso prettamente nel stagno, nell'area fina e nella campagna fina, però nella campagna fina fino al limite, cioè non include tutta la provincia di Talerno, ma si ferma praticamente poco dopo la costiera della fricatura di Talerno e poi inizia la fase, cioè l'area di diffusione dell'alfabeto a ballegrea. Per quanto riguarda i documenti che ho portato con, insomma, i più rappresentativi in passato dall'ediotide, che appunto sono, è un ingeretto che però da che cosa servissero sono ancora più diffute. Sono sia in Serracotta che in Duco, in genere quelle in Duco sono dei più recenti rispetto a quelle in Serracotta e sono comunque i primi documenti in cui compare questa digrafia occa. Poi ci sono, insomma, altri documenti anche qui sono abbastanza famosi, quindi in contemporanea, questa è l'area appunto planita completamente detta, è la tabula di aglione, quindi del bronzo, quindi vi faccio vedere che almeno a livello degli materiali esegato abbiamo il bronzo, abbiamo pietra, abbiamo, in questo caso appunto terracotta come abbiamo visto precedentemente, si entra anche in un certo livello, visto che c'è una retica appunto sul marmo, questo dato da Ecolano ma ce n'è un'analoga, quasi dedicata a trovacolo. Poi quanto riguarda le caratteristiche, un po' di ricapire il meccanismo, andrò rapida polarizzando le particolazioni delle differenze, in tutto il sud della grazia, questa è nel nostro che appunto è distrusco, così come il nostro a base grafica latina, mentre il nostro a base grafica e rusca, ricattendo dell'originale di rusco, sarà appunto distrusco. Vediamo che nel numero di temi c'è una differenza, appunto, sono 23 contro i 19, perché, in direzione, ha un panorama di temi più ampio anche perché ha anche la possibilità di utilizzare né il sonore che non aveva né il frutto, e quindi si vede prima o più che altro, non riadattare il modello greco alla lingua osca, che significa poi che altro delle regole, che si va a intervenire soprattutto sulle regole fonetiche di l'utilizzo dei segni o sulle regole di montaggio della legge per creare le suoni, che non si creano segni opposti, per esempio, nel caso della, cioè quindi ad hoc, per esempio, con la i e la unica criticata, però si montano temi già esistenti in greco in modo diverso e ovviamente ci sono una serie di aggiustamenti nel corso del tempo per segnare appunto quel suono. l'unica soluzione diversa c'è per il segno per s, perché qui il segno per s per il greco, vediamo, è l'unico caso in cui, oltre a riprendere un segno che in etruscoli, a me che rappresentava un theta, si utilizza una serie notevole, soprattutto una invece di sisma lineare o altro, per segnare il suono per s, perché probabilmente, in quella tradizione, si era aperto questo, insomma, nella tradizione greca, appunto, l'originale di gamma, si era aperto il tradizio e quindi si sono trovati scorniti che hanno potuto riadattare linguisticamente quel segno per notare questo suono. A livello di diffusione, vediamo che non si incontrano mai, se non in questa fascia di rispetto, come potremmo dire, dalla penitola correntina e la fine della provincia di Salerno, perché l'ocqua dalle greca è diffusa, appunto, in Ebruzzo, quindi più o meno in Calabria, in Lucana, quindi in Baldificata, e in Sicilia. Per quanto riguarda gli esempi, appunto, anche qui abbiamo una rastra, una rastra, un'esplosione che qui bronzea su un emmo, in bronzo, e vediamo invece quali sono le caratteristiche della spazzatura fino. Le caratteristiche della spazzatura fino, cioè che sono, come ho detto, i elementi in comune per la gestione della creatia, qua in Latina lavoriamo di 22 temi e non 23, quindi, insomma, la soluzione intermedia, soprattutto dalla legenda, e quella della base greca, però, aspetto al latino, delle approfie, ci sono delle modifiche che riguardano i tempi per z, se c è per, appunto, i dietomi che sono alla latina. Perché il tempio per z, che probabilmente è l'influenza dell'evo, perché viene utilizzato, a secondo dei contesti, con due valori fonetici diversi. In un cavo può notare una sibilanza sonora, e quindi coincidere con una ossa, essere sonora, e in un altro cavo, invece, può essere l'effetto, io ho studiato un po' inizio, perché tra le caratteristiche dell'osco c'è la tendenza alla palatalizzazione e l'abbiglamento col suono semimocalico. Ecco, questo si rendifica, spesso nelle parole di Oveis, di Oveis, la stessa nore delle iubili, che è stato, in un altro, in un'esistenza antica, con di Nudas, in alcuni casi si perde, ma invece, dal passetto a base greca, spesso questa lì, viene sostituita da questo segno, questo gruppo, viene sostituito da questo segno, cioè z, che però, probabilmente, manteneva l'aboluzione originale, e che poi c'è proprio l'influenza del greco, perché il nome sarebbe lo stesso, e il geus, appunto, viene nominato proprio come geus. Per quanto riguarda il segno di Geoclecci, il prezzo, appunto, ha detto il greco latino, che quel segno ne lo dava uno, uno, così, una forza, qui non viene utilizzato quel segno, cioè abbiamo detto che ha, di fatto, la valenza del gamma, quindi della sonora, ma viene recuperato anche per il greco, anche per il greco, scusate, per l'alfabetico, a base latina, il schappa. E poi, il segno, che in latino è la est, probabilmente rappresentava un suono tipo C, e se ne accogliamo perché nella tabula cantina è inserito questo testo, però, per notare anche della minuncia particolare, quindi della carica, in un certo modo, della magistratura italica, che, ripeto, quello che questo è la tendenza della precessione, come il giusto, quindi, che inizia, come il segno, che sono corrispondenti a quello latino, io ho già detto che è problematico, però è interessante notare che si creano, in queste aree in cui compare teoricamente la fabbrica fotografica latina, si creano anche delle differenze di uti di iscrizioni, cioè che, in genere, a Cuma sono attestate iscrizioni rappresentate soprattutto da tabelle di iscrizioni, cioè, praticamente, delle lastre di minimale edizione, con delle varie, mentre nell'area lucana, di Acuma, nell'area lucana, invece, sono, per lo più, iscrizioni motile, o, nel caso, appunto, già menzionato dalla tabula cantina, di un testo sporidico, quindi si crea anche una distribuzione complementare a secondo delle aree. esempio, praticamente, quello più famoso, anche quello più lungo, è quello della tabula cantina, che si vede poco, però, insomma, si vede, mi randendo, che, appunto, il consulto, come dicevo, è distosto, e che i caratteri sono latini, ma non vi doveremo nessuna parola latina, proprio perché è offo, sebbene, all'interno di questo documento si piange una parte in latino. Quindi, un'altra, la questione a cui l'ho accennata, che parla, il giro, soprattutto, l'ambiente, a parte del, perché, ve l'ho già, come, che all'inizio di parete, noi ne ho parlato, sulla presentazione di un anno, di qualcuno appunto di documenti, che comprovano questo passaggio, dalla fase, potremmo dire, trucca di, eh, sto qui, ci ha approfitto, il dottunissimo quarto, verso la fase rotta che, quindi, si notano di che ha un'intimità culturale, però, al di là di quest'analisi sulle intersezioni grafiche e delle proprie che ci porterebbe, letto, a parecchio sui luci, se con problemi di altro tipo e di altra natura, sicuramente, dicevo, l'osco è un, un esempio, quindi per esempio, di, perfetta, risulta di una perfetta integrazione etnica perché ha origine dal fatto che c'è questa professione a un'università di cui credo è scendato con un chiaro quadro, poi c'è appunto il fatto che connota comunque un livello alto della comunicazione, quindi c'è questa volontà di autorappresentazione, come si diceva, che è probabilmente apitetica ai umani perché si va a vedere anche una tendenza che è quella al trattare le lettere in modo abbastanza squadrato, perché se guardate l'acquadeto e ripuntate la parte delle trucco del collega, vedete che insomma l'oppo si caratterizza per avere più o meno forme finissime rispetto alla squadra di trucco, però molto squadrate. Ora è interessante notare che prima del quadro avanti cesto, una tendenza a scrivere anche per l'escrizione russa, per l'incampagna con l'essere più squadrate è già presente. E quindi una delle cose che potrebbe mostrare che questa contraria con la presentazione dei livelli alti inizia a nascere, quindi i passamenti in anticipi, rispetto a quelle che sono le teorie nato più estenute, per presentarsi come identità affermata, i primiti campani intorno ai quali si raduno con gli altri locali contro romani da una parte e stati uniti dall'altra, in una situazione proprio della Seconda Guerra politica sanitica. Quindi questo ci vorrebbe dire, ci definirebbe che insomma si mantengono anche le tradizioni prevesse e perché, e poi dopo dice, perché forse i saniti si avvalgono in questa creativa, perché ovviamente tra la natura e saniti le popolazioni più diciamo continui e che possono avere una maggiore, insomma, contruenza erognega, sono proprio appunto unità di parte religionale e quindi forse anche ad una scelta politica più conveniente ci sarà poi l'utilizzo successivo. E quindi appunto il progetto è questa volontà di autorespresentazione etnica. Per quanto riguarda gli sporti in energia latine, abbiamo detto insomma da quella panoramica fatta, che utilizzano indistintamente la ceramica, dietro il marmo, metallo, che può essere appunto dal metallo il bile, come questo caso il fiume, a quello più prezioso quale l'oro e anche quindi, se lo stesso discorso che si faceva stamattina è probabile che siano stati dati documenti su altro materiale, però di cui purtroppo non abbiamo tratta le funzioni di repetitività. Il secondo riguardo alla ceramica è tra gli sporti più diffusi, è il più diffuso per ovvie ragioni, perché appunto è quello che si trova più facilmente, che si produce più facilmente, può essere utilizzato ovvero da varie funzioni, spesso viene utilizzato anche come materiale per il trasporto e visto che comunque sono aspettate, movimenti da parte di queste corporazioni, è anche facile trovare l'inscrizione che casomai indicasse il contenuto o altro su questi oggetti. Appunto la ceramica è impiegata soprattutto per afforre le inscrizioni di edito al mismo assetto, nel caso di trasporti, appunto, bolli o contenuto. Le tecniche che vengono utilizzate per scrivere sulla ceramica sono la rassicura, l'inscrizione e l'incisione del timore. Per quanto riguarda la pietra, appunto, in genere il panorama si amplia, ma questo perché vuole dare più maggiore, vuole conservare maggiormente una maggiore esplenità in alcuni casi all'inscrizione e quindi viene utilizzata soprattutto per le inscrizioni rotive, stacre, mineralie, di tecnica oppure istituzionali. Anche qui le tecniche variano per lo più le inscrizioni, però in alcuni casi, se facciamo soprattutto di Pontei, abbiamo anche inscrizioni divinite, ma con le inscrizioni che si vedono di volantino, ma di metto volitico o altro. Il marmo, fatto della pietra, però è chiesto come essendo un materiale festioso, ovviamente serve per uscire le inscrizioni rotiziali, che in metallo abbiamo tutti, però il bronzo è utilizzato anche se ha una varietà di utilizzo, cioè che va dalle monete, qui in alcuni casi molto larghi, che sono anche, capite, per recolare oggette, non ci sono in modo di prima, oppure per testi giuridici, in caso della tabula di agnone. Per quanto riguarda loro, un genere è utilizzato per gli stessi oggetti, abbiamo due anelli di agri, il film su cui voi non credete, uno che viene da Capua e l'altro che viene da Eternia, e raramente per scognare monete. l'algeno, insomma, scelta, l'algeno che si è fatta più fianco un plenario, mentre alla torta, al piombo, proprio di quella varietà negativa di maledizione, vengono affinate dei capelli e delle pezioni. Per quanto riguarda le attestazioni fuori d'Italia, abbiamo anche delle attestazioni fuori d'Italia e dalla lingua osca, e lo sappiamo sia per testimonianze dirette che per testimonianze indirette. Per quanto riguarda le testimonianze dirette, abbiamo due eventi, uno in alfabeto greco, è l'alfabeto a base greca, e un altro è l'alfabeto a base d'Akina. Per quanto riguarda la base greca, è entrato, c'è del lato che è stato ritrovato alla regia, e scoppa finisce per una serie di elementi, soprattutto di omastisi, con se è stato, la rimanda, ma anche se ne ha scritto, dovrebbe essere legato all'alcana. Per le testimonianze indirette, abbiamo delle dediche che sono da attribuire, una serie di fattori anche più omastici e le provenienze che tengono aggiunte, ha la legge che, originalmente, parlava appunto della lingua osca, ma che, trovando dei tuoi, ha utilizzato quella lingua in un tipo di lingua internazionale. L'altro esempio è una lingua a base di musca, che è un borlo a poco snacola, nel corso di cui diceva ritrovata, insomma, in Provenza, e dimostra, non solo appunto la ceramica come elemento del trasporto materiale, ma, diversamente, anche il fatto che i provenienze non avevano visto la campana, conversate con la Provenza, e anche più identiche, sempre di meno del vero, però, fatta stare l'acqua e il cattino. Quindi, come lingua internazionale, utilizzavano un'altra, ad ulteriore dimostrazione, di quanto fossero, diciamo, un lingue e anche iniziai di cittadini. Qua, e a finito, in realtà questo lo stanno completando, c'era l'elenco di una serie di riconosci online, però, rispetto a quello che abbiamo visto stamattina, se nei riconosci online noi vediamo che, due cose in particolare, non esiste nessun, diciamo, progetto che abbia pensato di catalogare tutte le istituzioni e che ci faciliti la ricerca, però, su, sono degli articoli dei vari studi di OTI, notizie, qualcuno che è in buon cuore e veramente su internet, notizie, in genere, molto, insomma, superficiali, molto noto, in alcuni casi, sono utili perché qualche sito, anche se è da prendere troppo al modo, perché ci sono qualche imprecisione, cioè qualche imprecisione, o perché si ha interdito il materiale non era troppo competente, o perché le notizie non sono aggiornate, che ciò, insomma, la possibilità di vedere online qualche vula, insomma, qualche immagine dei reperti, perché se no, ripeto, non c'è, e un'altra tendenza che si nota per i risultati online, e che effetto rendono abbinati i tanniti, cioè, quando uno vada alla ricerca dell'occo, si tralascia tutta la realtà di cui sembravo vedere un quadro in questa sede, per rimandare tutto e sempre all'area tannita. è un sito, quindi, abbastanza interessante, mi è sembrato uno curato da Castelletti, che è un sito di magistratura età, che quindi possa, insomma, approfondire gli aspetti delle magistrature, quindi danno delle notizie con la valente anche di documentazione che ha, che va a sicuramente per funzionare, o che tipo di interazioni ci sono a livello di dell'occo. Grazie. 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 Grazie.